Ben ritrovati a tutti da Marcus, allora niente 33, però ragazzi guardate i miei sistemi, questo è Somma X2 guardate un attimo, 1, 2, secondo colpo, secondo colpo, 48, 84, 60 questa sera questa sera al secondo colpo Somma X2 regala un terno a ruota ecco perché vi dico che ci rimango veramente malissimo perché quando si gioca veramente per far vincere magari bastava una previsione fatta al volo come questa qui e si andava a vincere vedete, quindi Somma X2 rimane sempre una bomba di metodo, è una bomba di metodo e mi raccomando, chi ha il programma, si scelga una previsione, la faccia da se stesso perché andrà a vincere allora, cosa volevo dire, noi proveremo con un'altra previsione nuova la settimana prossima sempre con Somma X2 o se no con cadenza simmetrica vedremo, uno delle due, sono forti tutti e due questi sistemi quindi vedremo un attimino il 90 su Venezia e Roma va continuato Venezia, specialmente Venezia e Roma va continuato poi Milano rimane forte anche lei Milano, Roma e Venezia rimangono le ruote più forti mi raccomando nel gruppo Telegram il 90 con i suoi però vedete ragazzi, quindi le ruote di calcolo rimangono tale e quale poi l'asse della vincita poi va a finire la propria ruota quindi vedremo adesso ragazzi, il mese di aprile ci sarà ancora un'estrazione, abbiamo se non sbaglio, no? martedì prossimo, poi basta però vedermi questo terno qua in una ruota secondo colpo mi girano un pochettino, eh? quindi non solo a me, ma a tutti voi sicuramente comunque, il 90 a Venezia è sempre lo stesso anche a Roma e Milano una buona serata a tutti noi ci risentiamo grazie a tutti voi, sempre per la cortesa attenzione Marcus